Il famoso politico statunitense, soggetto di recenti polemiche e discussioni riguardo alla divulgazione di importanti notizie segrete, è stato ricoverato in terapia intensiva per un problema alla vescica. Questo annuncio è stato fatto dal Pentagono la sera dell'11 febbraio. Secondo quanto comunicato dal Pentagono, il politico, il cui nome è stato oggetto di attenzione da parte delle più famose testate giornalistiche negli ultimi tempi, ha dovuto delegare temporaneamente le sue funzioni a un vice. Dopo una serie di esami, il famoso personaggio è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva di un noto centro medico militare. I medici hanno rassicurato sul fatto che il problema alla vescica non dovrebbe compromettere il suo completo recupero e che la prognosi per il cancro rimane positiva. Questo episodio segue una serie di controversie riguardanti la divulgazione delle informazioni sulla sua salute. Durante una conferenza stampa tenutasi il primo febbraio, il politico ha ammesso di aver mantenuto segreta la diagnosi di tumore alla prostata. La sua mancata divulgazione della situazione durante un periodo politicamente sensibile ha sollevato critiche e richieste di dimissioni. Tuttavia, nonostante le critiche e il clamore mediatico che ne sono seguiti, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha ricevuto la conferma della fiducia del presidente Joe Biden.